La squadra mobile della Questura di Caltanissetta, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito due misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Le indagate sono sospettate di aver commesso il reato di estorsione e tentata estorsione ai danni di più dipendenti di un'attività commerciale nissena da loro gestita. L'ex dipendente di un'attività commerciale presso la squadra mobile ha denunciato di aver subito una tentata estorsione da parte delle titolari. In particolar modo il giovane ha riferito agli investigatori che dopo un periodo di cosiddetto lavoro in nero, a seguito di un controllo espettivo, è stato regolarizzato, ma immediatamente dopo ha ricevuto la richiesta della restituzione di parte del denaro risultante dalla busta paga a lui consegnato a mezzo bonifico bancario. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico delle due titolari dell'attività commerciale, le quali avrebbero in più occasioni effettuato bonifici per l'importo corrispondente a quello previsto in busta paga per la specifica mansione dei dipendenti, per poi richiedere la restituzione in contanti di parte del compenso. In questo modo le indagate si sarebbero avvantaggiate delle prestazioni lavorative dei dipendenti, versando un corrispettivo per un importo inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro. Alcuni dipendenti, ascoltati presso gli uffici della squadra mobile, avrebbero accettato le condizioni imposte per il timore del licenziamento. Altri dipendenti, invece, si sarebbero posti alle richieste e per questo motivo sarebbero stati allontanati. Il giudice per le indagini preliminari, valutati gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla Polizia di Stato, ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, emettendo le due misure cautelari per le datrici di lavoro. Così la squadra mobile ha dato esecuzione all'ordine della Procura della Repubblica di procedere all'esecuzione della misura cautelare, sottoponendo agli arresti domiciliari le due indagate.